Capracotta ancora paralizzata dal maltempo. Questa mattina il ghiaccio sulle strade provinciali che collegano il paese ai centri limitrofi ha causato non pochi problemi a diversi automobilisti rimasti bloccati. A denunciare la situazione di difficoltà è il sindaco Candido Paglione che ha bollato il piano neve della provincia di Sernia come inadeguato. Ancora una volta, ha detto il primo cittadino, non è stato garantito il diritto alla mobilità di chi vive nei territori di montagna. Stamattina addirittura non sono usciti i mezzi spargisale, c'è un gelo pazzesco perché le temperature sono scese, insomma qualcuno deve farsi carico di queste cose. Chiederò al presidente della provincia intanto di verificare chi fa che cosa e soprattutto di capire se la catena di comando che deve gestire il piano neve ha funzionato o meno e se non ha funzionato che si adottino gli accorgimenti e i miglioramenti che servono per garantire alla nostra gente il diritto a rimanere qui. Nel fine settimana erano bastati solo 20 centimetri di neve per bloccare la circolazione e in un paese che dovrebbe fare dei paesaggi invernali il suo cavallo di battaglia, già famoso per nevicate di oltre due metri, rimanere isolati è paradossale. È questo il grido d'allarme lanciato dai commercianti in difficoltà. Una questione turistica quindi ma anche di sicurezza. I malati che devono raggiungere gli ospedali di Agnone e Isernia non possono essere rallentati, ha commentato Paglione. C'era gente che doveva andare ad Agnone e è andata ad Agnone con grande difficoltà perché 20 centimetri di neve senza che cela un tracciato fatto dal mezzo sgombraneve potete immaginare quanto sia complicato e solitamente le persone che si spostano sono persone anziane, persone che hanno più bisogno degli altri. E se da un lato nei giorni scorsi le auto si sono fermate a Capracotta, dall'altro le mucche hanno continuato il loro cammino dai Pascoli alla stalla in una contrada del centro alto molisano. La speranza dei cittadini in caso di altra neve è che le strade possano essere liberate con efficienza prima che a percorrerle restino solo gli animali.